Cosa fare quando non abbiamo scelta? Allora una delle domande che mi rivolgono maggiormente le mie clienti è quella tipo sono stata invitata da amici ad andare a mangiare la pizza e in quel posto fanno solo pizza non ho altre alternative e magari si trova in un momento del protocollo in cui non hanno pasti liberi o magari i pasti liberi a loro disposizione li hanno già sfruttati come comportarsi in queste situazioni? Allora capite bene che ci sono delle situazioni in cui non abbiamo grosse scelte altre invece dove con un po' di ingegno con un po' di fantasia riusciamo in qualche modo a venire fuori da un impasse. Oggi nel podcast di telegram se non lo avete fatto ascoltatelo ho dato una motivazione ho dato una spiegazione che ho scritto anche ieri nel mio gruppo privato cioè se io vado in un club di scambisti ho due possibilità o sto lì a guardare e quindi soddisfo il mio desiderio voyeristico oppure mi butto nella mischia. La terza alternativa è quella di non andare. Allora se in questo periodo dopo aver fatto due mesi di clausura ci sono inviti ci sono eventi c'è la voglia di uscire c'è la voglia di condividere e ci mettono di fronte a una situazione nella quale non abbiamo scelta abbiamo sempre il piano A e il piano B. Il piano A è quello di andare e di mangiare quello che c'è cercando nei limiti del possibile di scegliere il male minore quindi cosa voglio dire? Se vi invitano a mangiare la pizza e non c'è alternativa alla pizza evitiamo di prendere una pizza con quattro formaggi più il prosciutto crudo e una birra da mezzo litro e magari anche il tiramisù. L'alternativa a quella di prendere quindi una pizza poco condita che può essere una marinara con le verdure quindi evitiamo di aumentare lo sgarro tra virgolette è quella di non andare. Oppure se la compagnia va in gelateria a mangiare il gelato e io non voglio dare spiegazioni non voglio spiegare che non posso mangiare il gelato sceglierò magari una granita di frutta fresca anziché prendere bacio nocciola cremino con la panna. Il problema dov'è? Sono due fondamentalmente il primo è quello di non voler dare spiegazioni in un momento in cui state facendo un protocollo in un momento in cui sta seguendo un regime non volete spiegare alle persone che non potete mangiare o non volete mangiare il gelato mangiare la pizza o qualunque altra cosa perché non volete sentirvi dire sì ma per una volta ma dai ma cosa vuoi che sia ma che ti sta succedendo stai diventando fissata eccetera 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 l'altro qual è è che in quella circostanza pensate vabbè ormai visto che ci sono la faccio fino in fondo e quindi esagerate non riuscite neanche a gestire quella situazione. Allora ripeto il concetto e il principio che deve passare è questo se non avete soluzioni è utile che voi mi scriviate e mi chiediate come fare a venire fuori da quella soluzione o bevi o affoghi non ci sono alternative o vai e mangi quello che ti fa meno male oppure non ci vai non ci sono altre soluzioni diverso è se invece mi chiedete non riesco a fare il pranzo perché ho una giornata impegnativa dimmi come posso riuscire a non saltarlo cercando di restare in protocollo. Allora quando voi non siete abituate quando voi non fate andare la mente la cosa che vi viene più facile pensare è quella di dire pranzo con la frutta pensando che pranzare con la frutta sia la cosa più semplice e sia quella meno grave perché non vi viene in mente che anziché magari pranzare con la frutta se io preparo in un tupperware un uovo sodo e del tonno con dei pomodori tagliati il mio pranzo è assolutamente in linea è assolutamente fit e ci vuole lo stesso tempo per consumarlo che magari mangiare una mela o mangiare una banana o mangiare una macedonia per esempio. Allora capite come anche di fronte a determinate difficoltà bisogna aguzzare la mente sforzarsi e trovare sempre delle alternative ma dove alternative non ce ne sono non avete scelta quindi mangiate la vostra pizza in tranquillità non flagellatevi tanto se accade una volta ogni tanto non succede niente e in quella circostanza scegliete il male minore visto che non avete alternativa altrimenti l'alternativa è non andare e sarete serene e soddisfatte. Spero una volta per tutte di aver chiarito questo concetto. Buon pomeriggio.